General Credit, abbiamo bisogno di recuperare recenti fatture dove ci hanno fatto bonifici falsi. Questo è un incarico che ci è capitato molto spesso, cioè l'azienda ha venduto merci, consegnato prodotti o dato servizi dopo aver ricevuto dal cliente la contabile del bonifico, pensando così di aver eliminato il problema del rischio dell'insoluto. Purtroppo però il bonifico reale non gli è mai arrivato e la contabile inviata era un falso e a volte pure veramente ben fatta. Abbiamo avuto soprattutto casi simili con invio della contabile o del cro il venerdì, così prima del lunedì successivo non si poteva verificare l'accredito, oppure poco prima di festività come Natale o Ferragosto. Oggi però questa modalità di truffa è finita, perché i bonifici arriveranno in conto entro 10 secondi dall'invio. E le banche sono contente? Mica tanto. Ne parliamo approfonditamente stasera alle ore 19 nel nostro canale YouTube, playlist attualità.